Un viaggio di tre giorni alla scoperta di se stessi in piena connessione con la natura. E' infatti nel cuore verde dell'Alpe di Poti che è tornato l'Arezzo Benessere Festival. Possiamo sperimentare attività di gruppo che sono il Tai Chi, il Qigong, lo Yoga che adesso è in corso, ma anche i trattamenti individuali quali Shatsu, Pranoterapia. Si tratta di un festival diffuso all'aria aperta in ampi spazi. Abbiamo voluto fare un'edizione più ristretta proprio per questa emergenza Covid, quindi mi sembrava carino portare qua, che siamo in mezzo alla natura, in mezzo al verde, e raccolta e poi perché dobbiamo comunque, interessi tutti i reti neri, valutare questa montagna che è un po' decaduta. Il festival itinerante del benessere comprende anche la baita di Poti, rimessa nuovo dallo scorso maggio. L'ho presa in affitto, l'ho rimessa tutta in funzione proprio per ricominciare a portare il turismo qui. Infatti nei weekend, ora a parte questo che c'è il festival, comunque c'è sempre persone. Chiunque viene qua ammira questo posto, insomma gli piace stare qua su. Adesso si cercano investitori per dare vita anche all'albergo di Poti, ormai da anni abbandonato. Era la montagna di Aretini, io ho dei ricordi perché da piccolo venivo qua in vacanza, negli anni 60 le vacanze erano limitate alle zone di mitrofele città, poi dopo è esploso tutto quello che era la parte dell'Adriatico, del mare, gli Aretini sono cominciati ad andare al mare e hanno abbandonato questa montagna, che invece è giusto riportarla, riqualificarla. Però è un progetto che ho iniziato, vediamo piano piano, poi da settembre vediamo anche di fare progetti, ancora ulteriori progetti su questa montagna.